Il 15 novembre sono Leopold, il terzo confessor. Morsi a gronda pietà e buona vita, veniva sono Leopold nominato il pius, che vuol dire il bian. Ai pareva che il joven Leopold vessi artao col nutrimento della mamma la devozione e la tema da Dio. Si è bene che il cresceva il sogno, tanto più cresceva l'era e la svertizia. Leopold fuva in joven modesti e humilitàveli, in plai e fai. Era odiava il sveci del mondo, escezion il sdaletto dell'accordo e veniva per quai admiravus per spiegel da temperanza e castedà. Cora che il bambino Leopold II è stato morto, ha il scopo un primo giù, ricerito il governo del principale dell'Austria. Cora che aveva anche dapplicato giù di far valere i sui biali vertici. I sui giorni governava i sui bambini. Si è fina mira fuva da essere buoni con se subito, procurare ad i sui bene e mantenere i sui paz e concordi. Leopold administrava con tutta giustia, ton e il pigno, scu e il grone. Era il lui se spuzaus con neggia, la felia di l'imperatur Henricus IV, in ad un gialla virtuosa e di grone da pietat. Questa legge aveva anche due bambini e due bambini. Specialmente aveva il lavoro di misericordia con consolare e chiedere a quelli che venivano ma gesta main scuicciare. Leopold honorava e rispettava grande main il spirituale e claustrale. Il portava era tala venerazione e rispetto verso il Papa, ascia che il veniva da Papa Innocent al secon, nomnaus il bian feil di San Pietro. Il devozio, prensi, leve era che se subito fossi un devozio e sorviensi fidabili da Dio. Per dar a quelli coraggio e buona cagione da frequentare il cervello da Dio, ha il schauba gatiare Pasiglie e due claustres. Durante 41, ha sogni Leopold ridiu suo principat con crescentare la gloria di Dio. Mort si esvertiti, si tarli giunti, fovele fec di maus di prensi e di astri, che avevano era il decidere da godir sia prescienza. Finalmente, ha Dio volu prendere il suo principat temporal e dar ad el il regginavel perpetano. Leopold veng malzaunz e che vige da venire provvediuscoli sui sacramenti e passau l'u ilion in 1939, beata ma in vi e la corte celestiale. Sin intercessiun da son Leopold, ha diuschau davantar cao non d'un braigli miracli, con dar la sanedata mal spirtai, txocs, txops, suurt ed anche abbiars autors malzaunz. Per fin morti ha venire levantai da morte in vita. Quai dati il procese da sia canonizzaciun entras Papa Innocents i Liotiavel, per decja che datesha di Lion in 1491? e che vige da era, che melzaunz veven vota nio il vut e sto even d'enove mai in rugar per la sanedata. Raidi 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 Rai Raidi Grazie a tutti.